Che tu lo mangi o meno, è molto probabile che tu abbia sentito parlare del glutine. Con la crescente tendenza delle diete senza glutine, ci sono molte persone che si domandano ma che diavolo è? E soprattutto, è necessario per la nostra alimentazione? In poche parole, il glutine è una combinazione di due proteine, che si trovano principalmente nel grano e nei cereali, quali orzo e segale. E questo è tutto, è solo un complesso di proteine. Queste due proteine, chiamate gliadina e glutenina, si combinano creando il glutine che aiuta a nutrire gli embrioni delle piante ed è una sostanza importante che conferisce quella morbidezza agli alimenti. È tipo una colla, rende l'impasto elastico e dà al pane la sua consistenza spugnosa. Ma allora perché è così un male? Beh, in realtà non lo è. Non è né dannoso né essenziale per la nostra salute e ci sono poche prove che affermerebbero che eliminarlo dalla nostra dieta sia la scelta più sana per una persona nella media. D'altra parte, chi soffre del disturbo digestivo cronico, chiamato celiachia, non dovrebbe mangiare nulla con il glutine, e da qui può essersi originata un po' di confusione. Se un celiaco ingerisse il glutine, il suo corpo lo vedrebbe come un invasore e innescherebbe una risposta immunitaria che finirebbe per danneggiare l'intestino tenue. Un'eccessiva assunzione può portare il suo corpo a soffrire di gravi carenze nutrizionali. Di recente, gli scienziati hanno individuato una piccola percentuale di popolazione che non è celiaca ma ha anch'essa un'alta sensibilità al glutine, ossia soffrono di sintomi simili dopo aver assunto il glutine come crampi, diarrea e gonfiore. In entrambi i casi, le opzioni alimentari senza glutine sono essenziali, altrimenti non hanno molto peso le altre indicazioni o argomentazioni sulla salute sulle diete prive di glutine. Non è in alcun modo una tossina come alcuni potrebbero suggerire, e senza glutine non significa necessariamente che quell'alimento sia più naturale, più sano o con meno calorie. Al contrario, si potrebbero correre alcuni rischi nell'eliminare il glutine dalla propria dieta. La mancanza di glutine stesso non è rilevante, ma le vitamine e i cereali integrali con cui spesso è combinato sono piuttosto importanti. Senza integrarli nella dieta, potresti nuocere alla tua salute. Oltretutto, senza il glutine utile per legare insieme gli ingredienti, vengono spesso utilizzati i più grassi e zuccheri, anche per rendere i cibi più gustosi. Allo stesso tempo, la popolarità e la moda delle diete senza glutine hanno creato un mercato per questi alimenti. E dove una volta c'era poca selezione, ora ci sono opzioni senza glutine in ogni dove. E tutto ciò è un bene per chi ne ha davvero bisogno. Ma oltre alle diete senza glutine, ci troviamo spesso bombardati da una quantità infinita di nuove diete. Scopriamole insieme, e vediamo quali funzionano davvero nella clip presente sullo schermo o indicata nella descrizione del video. E iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi. Grazie. 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 Grazie.